Sta calamitando l'attenzione del pubblico, tenendo per ogni appuntamento il sold out Willow Fest Pescara Music Festival, il nuovo format ideato dall'assessorato comunale al turismo e grandi eventi guidato da Alfredo Cremonese. Si tratta di un festival musicale articolato in due sezioni, quella dei big della musica nazionale e internazionale e quella dedicata agli artisti locali. Dopo la rappresentante di Lista e The Colors, questa sera allo Stadio del Mare, si esibiscono DJ Set Umberto Palazzo e Casa Sonica Tribute Sussomnica e fino al 28 agosto sul palco saliranno artisti e DJ molto amati dal pubblico tra i quali ricordiamo Amy Stewart e Clementino. La partecipazione agli spettacoli è gratuita ma è necessaria la prenotazione con i limiti e le prescrizioni previste dalla normativa anti-covid. L'evento che mette in risalto sia la musica che la solidarietà è stato ideato dall'assessore Alfredo Cremonese. Format che sta avendo particolare successo? Direi un grandissimo successo, un format innovativo che al suo interno prevede l'esibizione di grandissimi nomi nazionali e internazionali, quest'anno ne abbiamo fatti esibire cinque, però all'interno contiene anche la possibilità di esibirsi ai nostri artisti locali e ai DJ. Tra di loro si aprirà una vera e propria gara e i migliori in futuro apriranno i grandi concerti che si terranno a Pescara. Il Comune ha deciso di promuovere una raccolta di fondi in favore del reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara ed è possibile offrire un libero contributo con un versamento sul Liban che trovate anche sul sito internet di Rete8 all'indirizzo telematico www.rete8.it. Il festival sta richiamando anche molti turisti in città. Due eventi che abbiamo già realizzato, la rappresentante di lista e i decolors hanno avuto il tutto esaurito, il sold out e abbiamo avuto tantissime persone che purtroppo non hanno potuto assistere allo spettacolo. Ci auguriamo che in futuro l'amministrazione possa ottenere lo stesso risultato. Stiamo lavorando affinché ciò avvenga e stiamo lavorando affinché questo possa essere in futuro un vero e proprio biglietto da visita di Pescara che potrà essere chiaramente venduto anche all'esterno per portare sempre più turisti a Pescara per assistere ai eventi di altissima qualità.